Lo studio tecnico VEBO2 del geometra Ivan Vecchi di Alpignano, grazie al suo team di architetti, ingegneri e geometri, studia e sviluppa progetti di architettura e ingegneria civile, residenziale e industriale. Lo studio tecnico fornisce soluzioni complete per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente, ponendo la massima attenzione ai processi tecnologici innovativi e ai relativi costi di realizzazione. Progettiamo la vostra nuova casa o la ristrutturiamo, seguendovi passo passo sino alla consegna delle chiavi. Dovete vendere un immobile? VEBO2 verifica e regolarizza difformità comunali, catastali e rilascia l'attestato di prestazione energetica per rogitare con tranquillità. VEBO2 risolve. Costruire con passione.